Aveva solo 28 anni il motociclista che è morto nel terribile incidente tra una Ducati 999S e una Dacia Duster sulla Sassari Olbia. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 597 di Logudoro a Oschiri in provincia di Sassari all'altezza del chilometro 42. Davanti al distributore esso la vittima si chiamava Adriano Pinna faceva il meccanico. A bordo della sua moto viaggiava in direzione Olbia quando si è scontrato con l'auto guidata da un pensionato olbiese per il giovane che è caduto nella corse opposta battendo sull'asfalto. Purtroppo non c'è stato nulla da fare una volta arrivati i soccorsi era già morto al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente.